Ok, buon pomeriggio, mi chiamo Marco Spagnolo e vi parlerò adesso del software ANSYS-Sherlock per l'analisi delle PCB dal punto di vista strutturale. Vedremo una breve presentazione e poi anche una demo live. Qualora aveste delle domande potete scriverle sulla chat e poi magari vedremo di rispondere al termine della presentazione. Quindi, innanzitutto vediamo una definizione. Ok, quindi introduciamo innanzitutto il concetto di physics of failure. Ok, quindi cosa si intende per physics of failure? Con questo termine si intende una metodologia che, utilizzando algoritmi di degradazione delle performance fisiche, meccaniche, termiche, permette di predire l'insorgere di malfunzionamenti e quindi calcolare la vita di un sistema. Il termine è nato nell'ambito dello studio dei cicli di vita dei componenti elettronici, ma adesso il concetto è diffuso in molti campi strutturali. La physics of failure si contrappone a una predizione dell'affidabilità basata su modelli puramente statistici relativi alla percentuale di failure per componente considerato. Anzi, Sherlock è ad oggi l'unico software di progettazione di componenti elettronici che, basato sulla reliability physics, permette di calcolare l'affidabilità del prodotto sulla base dei processi di degradazione che si verificano durante l'utilizzo. Il Sherlock permette di predire quindi in maniera accurata la vita del singolo componente della PCB oppure dell'intero sistema, ad esempio la PCB all'interno del proprio case, permettendo di eseguire analisi strutturali che tengono quindi conto in maniera accurata anche delle condizioni al contorno, come per esempio la rigidezza del case per quanto riguarda il vincolo della PCB. E questo permette di calcolare quindi in maniera affidabile le cosiddette life curves, che descrivono le probabilità di failure in funzione del tempo di funzionamento. C'è un leggero delay nell'avanzamento delle slide. Sherlock presenta delle funzionalità standard, quali ad esempio la solve fatigue analysis, per predire l'affidabilità di tutti i componenti elettronici, quali le ball grid arrays, i die attach, chip e così via. Analisi termomeccaniche, analisi a shock armoniche, e poi invece tra le advanced features, troviamo l'interfaccia verso i più importanti codici FEM, a parte ANSIS, quindi anche NASRAN e ABACUS, il thermal derating, il calcolo mean time between failure, sia rispetto all'imperical handbook, piuttosto che alla physics of failure. E questo, diciamo, fino al design for manufacturability. Uno dei punti di forza di Sherlock è sicuramente la sua libreria, che permette di verificare o aggiornare le informazioni presenti nei file di interscambio generati dai software ECAD, quali ad esempio il file odb++, questo quindi in termini di componenti, package, materiali, laminati, solder alloys, eccetera. Questi sono database, queste librerie sono presenti nell'installazione, quindi risultano fruibili nel momento in cui viene installato Sherlock, e poi possono essere facilmente customizzati da parte dell'utente. Accendiamo adesso alla metodologia RPA, c'è la Reliability Physics Analysis. E questo lo vediamo in un diagramma di flusso tipico della progettazione dell'hardware elettronico. I box in campo grigio sono le fasi del progetto in cui l'impiego di Sherlock dà sicuramente un tangibile valore aggiunto nell'utilizzo di uno strumento di questo tipo. Vediamo l'initial part selection, quindi la selezione iniziale delle parti è focalizzata sull'individuazione dei componenti critici, sia dal punto di vista del funzionamento complessivo della PCB, sia da quello dell'impatto che una loro successiva sostituzione avrebbe sul processo di progettazione. E da qui quindi l'necessità di un'analisi RPA su questo tipo di componenti. Ad esempio, individuiamo come parte critica un ricevitore radio in un package tipo QFN, che i ricevitori radio sono un componente noto per problematiche di solder fatigue legate alle sollecitazioni termomeccaniche causate dai cicli di temperatura. In funzione del ciclo produttivo e delle condizioni operative, in una configurazione di primo tentativo con coefficiente di espansione termica del polimero pari a 8 parti per milione per millimetro per grado centigrado, Sherlock permette di calcolare la solder fatigue life curve, che è quella che vediamo plottata in questo diagramma, che dà una probabilità di failure del 15% a 1000 ore di funzionamento. Andando a modificare il coefficiente di espansione termico a 10 parti per milione, vediamo che la probabilità di failure si abbatte molto al di sotto del 5%. Quindi, passiamo adesso al box successivo, l'initial part placement, ovvero la collocazione sulla scheda di un componente critico che eventualmente è stato identificato nello step precedente, nella selezione iniziale delle parti. Consideriamo per esempio il system on chip del sistema infotainment di un'automobile che deve resistere a 50.000 sollecitazioni, oltre a una certa soglia di accelerazione. Queste sollecitazioni sono generate dalla presenza di buche sull'asfalto. Dove bisogna collocare questo componente sulla PCB? Quindi, tenendo conto di uno stack-up di primo tentativo della board, l'analisi con Sherlock ci permette di vedere la soluzione più efficace. quindi questo per esempio sono risultati relativi all'analisi a shock meccanico e quindi ci permette di vedere quale soluzione tra quelle disponibili, come per esempio muovere il componente piuttosto che aggiungere dei supporti alla PCB oppure usare un underfill sul componente SOC questo ci permette di vedere appunto quale soluzione sia la più efficace per abbassare la probabilità di failure. Nella definizione della BOM la Bill of Materials Sherlock permette di identificare di verificare l'idoneità dei componenti accessori i cosiddetti P-SPARCE sia passivi quindi resistenze, condensatori, induttanze che discreti di o di transistor. Quali di questi devono essere sottoposti alla Reliability Physics Analysis? Ogni volta ci siano dubbi sull'opportunità di derating i Dio di transistor sottoposti a significativi cicli di potenza tutti i resistori più grandi di una certa soglia 2 mm per esempio tutti i condensatori ceramici con tensione maggiore con tensione massima e minore uguale di 6,3 volt o con temperatura di esercizio minore uguale di 105 gradi centigradi tutti i condensatori in alluminio con elettrolita liquido. Ad esempio il condensatore elettrolitico in questo caso viene considerato l'impiego di un condensatore elettrolitico di primo tentativo diciamo la scelta è caduta su un componente con una vita stimata di 5.000 ore il diciamo in questo caso il risulta questa componente non risulta adatto per l'applicazione quindi è necessario scegliere un componente che abbia una vita più lunga per esempio 10.000 ore oppure che resista a una temperatura più elevata per esempio 125 gradi centigradi Sherlock permette di fare queste considerazioni nella scelta dei componenti accessori gli step precedenti quindi il part placement e la bill of materials permettono poi di studiare il layout finale in cui si entra nel merito delle scelte progettuali tipiche di questa fase quindi ad esempio la scelta del case il case quindi quale materiale utilizzare per esempio tra una plastica ABS oppure una lega di alluminio in questo caso si può valutare la soluzione più opportuna facendo delle analisi di tipo termico termostrutturale e le seguenti due immagini rappresentano i contour plot che fanno vedere appunto lo strain che risulta essere inferiore utilizzando un case in ABS quindi già in questo caso la scelta del materiale ABS è preferibile rispetto alla lega d'alluminio vediamo adesso una breve demo sul software sull'utilizzo del software ma terminiamo diciamo questa prima fase della presentazione con diciamo una definizione del file odb++ per chi non non avesse dimestichezza quindi l'odb++ è un formato di scambio dati uno standard che può essere utilizzato da qualsiasi software ECAD e permette non solo di trasmettere informazioni legate al materiale costituenti la PCB ma anche diciamo in virtù della sua strutturazione gerarchica di file e cartelle permette di trasmettere una grande quantità di informazioni quali possono essere appunto la bill of materials la collocazione dei componenti sulla scheda le dimensioni e i dati relativi ai costruttori dei componenti stessi quindi andiamo adesso a vedere l'interfaccia di Sherlock e procediamo con l'importare un archivio di B++ chiamiamo demo3 importando l'archivio cominciano ad essere visibili le informazioni relative appunto alla PCB che stiamo considerando questa diciamo è una scheda di controllo che viene montata a bordo di una pompa il andando a selezionare il tasto layers possiamo cominciare a vedere quali sono le informazioni disponibili nel file o di B++ quindi essenzialmente i componenti sono visibili diciamo e anche eventualmente possono essere nascosti e questo sia per quanto riguarda la faccia superiore che la faccia inferiore della PCB ovviamente anche le labels eventualmente possono essere nascoste guardiamo i copper layers nascondiamo quindi i componenti guardiamo il primo strato il primo copper layer vedete questo ci dà evidenza questo è un layer di segnale appunto delle piste di rame che sono presenti in questo primo layer poi andando a vedere quelli successivi il secondo strato questo è un layer di potenza vedete come la percentuale di rame sia parecchio superiore quindi sia essenzialmente diciamo abbastanza omogeneo dal punto di vista della presenza di rame se andiamo sullo stack up possiamo vedere diciamo dal punto di vista strutturale quali siano le proprietà della PCB in effetti diciamo Sherlock diciamo è pensato proprio per fare analisi di tipo strutturale quindi vediamo in questo riquadro al centro quali sono le proprietà medie della board e dal punto di vista della rigidezza e dal punto di vista del coefficiente di espansione termico queste informazioni poi sono anche disponibili layer per layer e lo possiamo anche diciamo confrontare con appunto le informazioni presenti sui copper layer quindi se noi scegliamo il primo layer vediamo appunto che il rispetto a quanto riportato nello stack up abbiamo il 15% di rame sull'intero strato e questo diciamo è coerente con l'informazione riportata e caratterizza anche determina anche le proprietà strutturali del layer stesso quindi nel momento in cui andiamo a scegliere per esempio il secondo layer questo corrisponderà ad una percentuale del 94% quasi 95% di rame e vediamo come cambia per esempio il coefficiente di espansione termico che si attesta praticamente su quello del rame essendo questo il materiale dominante apriamo adesso la part list e in formato a bellare compaiono le informazioni relative ad ogni componente in termini diciamo ad ogni componente montato sulla PCB questo in termini di design reference part number tipologia di package e anche collocazione sulla board queste informazioni sono codificate per via cromatica per conoscere le informazioni appunto di ciascun componente questa queste informazioni che derivano sono presenti nel file di B++ devono essere poi incrociate con quelle del della della libreria quindi il essenzialmente andiamo su update part list from part library e vediamo appunto che possiamo scegliere tra una libreria di Sherlock quella embedded e quindi presente in fase di installazione del software piuttosto che una libreria che potremmo avere già presente e che comunque possiamo diciamo customizzare ulteriormente scegliamo quindi Sherlock part library update part list e in questo momento il il software sta incrociando le informazioni presenti nel file di B++ con quello della con la propria libreria e vediamo che su 221 parti 216 sono state riconosciute e quindi verranno utilizzate le loro le proprietà di questi componenti per le analisi successive 5 non sono state riconosciute non sono presenti in libreria e quindi rimangono in campo grigio con diciamo standard ad indicare che si tratta di una sorta di priorizzazione da parte di Sherlock per quanto riguarda le loro caratteristiche una volta aggiornato la libreria possiamo interrogarla per esempio prendiamo un transistor Q1 doppio clic e si apre diciamo questa finestra che ci dà delle informazioni riguardo questo componente quindi innanzitutto l'ID il il tipo di che ci fa vedere per esempio il costruttore la marca del componente il package la posizione sulla PCB e le informazioni su come questo componente possa essere connesso alla alla PCB stessa quindi ad esempio la presenza di lead il loro spessore e laddove vedete ci sono questi punti interrogativi sono disponibili ulteriori informazioni quindi il ci fa vedere la tipologia di del componente come si presenta dal punto di vista geometrico e anche laddove è presente la information cliccando si apre un pdf che vi mostro e in questo pdf sono poi presenti informazioni aggiuntive riguardo il per esempio la modellazione dei collegamenti quindi che siano essi piedini piuttosto che solder ball il ci dice appunto Sherlock tramite questa guida come e quale sia la strategia di modellazione essenzialmente di questi di questo tipo di componenti il la la modellizzazione di questo componente all'interno del del file può essere diciamo plottata in anticipo cliccando su questo su questo tasto di visualizzazione all'interno del progetto noi dobbiamo necessariamente definire quelli che sono gli obiettivi dell'analisi con Sherlock quindi andando sull'upcycle e edit properties possiamo andare a definire le i reliability gli obiettivi di affidabilità rispetto ai quali andremo a fare le nostre analisi quindi in questo caso per esempio è il 20% di failure in dieci in dieci anni questo questi obiettivi verranno verificati rispetto a appunto a delle analisi che dobbiamo andare a specificare in in questo campo che possono essere analisi in Sherlock che possono essere analisi armoniche di tipo armonico piuttosto che random vibration analisi ashock e analisi termostrutturali il ciclo di vita rispetto ai quali fare questo tipo di analisi può essere anche specificato in un file esterno ad esempio andiamo a caricare quello di un della pompa essenzialmente che è stato definito per questa pompa e andando a caricarlo vedremo appunto che possono essere considerati i vari diciamo eventi rispetto ai quali calcolare il life cycle per esempio il ora aspettiamo che si è giorni abbiamo lo shipping quindi il trasporto della pompa con la scheda madre a bordo poi un eventuale stoccaggio della scheda madre della pompa in magazzino i carichi di esercizio e anche diciamo eventi di manutenzione quali possa essere il cambio del filtro quindi per esempio nei carichi di esercizio sotto alla voce pumping vediamo che sono stati contemplati sia carichi di tipo termico quindi legati alla temperatura per esempio del fluido che viene pompato piuttosto che al calore che viene dissipato dai componenti della scheda durante il funzionamento poi abbiamo delle analisi armoniche legate alle vibrazioni trasmesse per esempio dal motore piuttosto che un carico a shock che è quello legato all'avvio del motore elettrico stesso il questi 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 profili per esempio in questo caso un profilo di temperatura possono essere ovviamente anche modificati per esempio il questo può essere fatto sia andando ad agire direttamente sul diagramma piuttosto che andando a cambiare i valori all'interno della tabella è un tipo di grafico di questo tipo appunto che rappresenta la temperatura a cui viene sottoposta alla scheda durante appunto il funzionamento di un esercizio e deve tener conto sia del carico del calore per esempio trasmesso dal fluido pompato piuttosto che dal dai contributi di riscaldamento della scheda derivanti dal dal calore dissipato appunto dai componenti montati sulla scheda stessa se andiamo a vedere per esempio ancora il carico a shock vediamo che il profilo in questo caso è un semiseno noi possiamo andare a cambiare la durata del del semiseno del semiperiodo quindi mettere 20 oppure 5 millisecondi andare a cambiare il picco e vediamo come questo diciamo si traduca in termini del della diciamo della visualizzazione quindi adesso il periodo il semiperiodo di 5 millisecondi e il picco è del è di 100 e di 100 g il noi possiamo andare a cambiare anche eventualmente il profilo quindi anziché considerare un un semiseno possiamo prendere un ever sign che ha una forma leggermente diciamo diversa piuttosto che ad esempio il full sign o un impulso di tipo triangolare ok quindi il lanciamo adesso un'analisi modale e l'analisi modale appunto l'andiamo a specificare in questo tipo di analisi in realtà la prima operazione che fa Sherlock è la part validation per quanto riguarda la part validation diciamo possiamo agire su diverse opzioni quindi in questo caso per esempio viene richiesto l'interno part number e non è detto che diciamo questo sia disponibile soprattutto per quei componenti che non sono stati riconosciuti in fase di validazione quindi noi possiamo togliere questa flag e lanciare la validazione vedete che viene dato un segno di spunta in campo verde stando a indicare che appunto la validazione è andata a buon fine per lanciare un'analisi modale possiamo cliccare natural frequencies run analysis task e a questo punto noi possiamo scegliere appunto il range di frequenze rispetto al quale fare l'analisi modale questo primo campo ci dice quali quanti risultati vogliamo salvare perché diciamo tra 20 e 2000 Hz potremmo avere ad esempio una decina di modi propri in questo caso noi diciamo a Sherlock di farcene vedere per esempio i primi 6 in questo campo noi andiamo a specificare quali sono quali devono essere le caratteristiche del modello FEM che verrà costruito quindi per esempio in PCB modeling noi andremo a definire se i componenti debbano essere emergiati quindi debbano condividere i nodi all'interfaccia con la PCB piuttosto che essere bonded quindi semplicemente incollati sulla PCB stessa questo ovviamente ha una conseguenza rispetto alla creazione del modello quindi all'infittimento locale della mesh in corrispondenza del collegamento con i componenti di conseguenza scegliendo l'opzione bonded sicuramente avremo una mesh più snella quindi che impiegherà meno tempo a girare ancora in questo caso possiamo scegliere se utilizzare diciamo un approccio uniforme nel considerare le proprietà della PCB piuttosto che il layered quindi andare a considerare elementi layered per quanto riguarda la la definizione appunto del il meshing e la definizione delle proprietà dei materiali lasciamo gli uniformi in questo caso verranno calcolati le proprietà omogenee della PCB in funzione dei costituenti dei vari layer ancora in questi campi andiamo a scegliere le dimensioni minime dei componenti e questo si rifletterà ovviamente sull'infittimento della mesh lanciamo save run e andiamo a vedere cosa succede nella nella cartella in cui vengono salvati i vari file durante l'analisi e vedete come appunto l'analisi venga fatta utilizzando il solutore di ANSIS e al termine dell'analisi in questo caso abbastanza veloce possiamo andare a vedere i primi risultati e i risultati ce li fa vedere in questa nuova finestra che essenzialmente andrà diciamo a riassumere le varie analisi che andremo a fare su questo componente in questo caso abbiamo fatto soltanto l'analisi modale quindi sono presenti i dieci modi nel range da 20 a 2000 hertz e questi modi li possiamo vedere anche diciamo sulla finestra di layers perché nel frattempo si sarà aggiornata e vediamo che compare una nuova voce che è finite element analysis results e questo ci permette di plottare i diciamo i contour plot relativi ai modi appunto ai modi propri legati a queste a queste frequenze qui possiamo vedere possiamo sovrapporre poi i componenti sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore della PCB e questo ovviamente lo possiamo fare per i vari modi questo ci dà una visualizzazione 2D possiamo però chiedere di vedere i risultati sul modello 3D e in questo caso si apre questa nuova interfaccia che ci permette di vedere appunto di orientare a piacimento la posizione della PCB che ci sta mostrando in questo momento il primo modo proprio di vibrare della scheda ovviamente considerando i punti di vincolo i punti di mount per vedere gli altri modi questo è il secondo modo a 501 hertz e così via possiamo poi salvare queste informazioni sia esportando un'immagine ma anche un file pdf 3D e questo questo tipo di soluzione è sicuramente molto vantaggiosa perché il ci permette di condividere i risultati ottenuti senza con altri con altre aziende con altri colleghi senza diciamo richiedere che questi abbiano un particolare viewer installato quindi il fatto di poter utilizzare il pdf 3D sicuramente è un vantaggio vediamo adesso velocemente una pth fatigue un'analisi plate through all fatigue questa la andiamo a fare su un'analisi di tipo termico quindi andiamo a considerare il carico termico di esercizio quindi relativo alla fase di pumping e anche facciamo sulla solder fatigue la stessa cosa quindi andiamo a scegliere sempre lo stesso ciclo i risultati i risultati relativi a questa analisi sono sempre presenti nell'interfaccia di visualizzazione che avevamo visto prima per quanto riguarda l'analisi modale per quanto riguarda la solder fatigue vediamo vediamo ci sono dei componenti che determinano diciamo un failure in anticipo rispetto a quelli che erano gli obiettivi dell'analisi quando abbiamo caricato il life cycle gli obiettivi sono stati specificati in 3% di probabilità di failure rispetto ad un life service service life di 4 anni quindi in questo caso abbiamo dei componenti che accorciano questa vita e quindi rispetto al range di 4 anni vediamo che già al secondo anno diciamo si prevede un failure che è superiore a quello del 3% per quanto riguarda la PTH fatigue anche in questo caso vediamo che è previsto un failure e infine in life prediction possiamo vedere il diciamo la risultante la curva risultante la combinata delle due life curve calcolate rispetto alla solder fatigue e alla PTH fatigue il per quanto riguarda diciamo la PTH fatigue noi possiamo avere informazioni riguarda appunto i plate through all presenti nella presenti sulla scheda e sulla solder fatigue possiamo averlo rispetto ai componenti quindi se io seleziono per esempio questo componente in campo verde questo non dà problemi rispetto agli obiettivi che che ci siamo posti infatti vedete che la probability of failure è inferiore al 3% al termine dei 4 anni e invece quelli in campo rosso stanno a indicare che questi componenti sono responsabili del fatto di non stare raggiungendo l'obiettivo prestabilito in questi casi cosa si può fare il share lock ci permette appunto di cambiare come abbiamo visto nella presentazione le caratteristiche di questi componenti ma questo lo possiamo fare sia a livello di componenti sia a livello di materiali costituenti la scheda stessa quindi se ad esempio torniamo sullo stack up vediamo che le parti strutturali quindi i layer di elettrici fanno riferimento a una generica fr4 noi possiamo selezionarli e andare a cambiarli quindi attingere alla libreria di share lock e magari prendere dei laminati facendo riferimento a un costruttore ben definito io posso scegliere questo tipo di produttore e poi scegliere fr4 e andare a scegliere le caratteristiche della della scheda in questo caso della vetroresina scelgo questo valore si aggiorna quindi il mio stack up si aggiornano le proprietà diciamo strutturali calcolate sulla scheda io posso poi andare a questo punto a rifare l'analisi per esempio la pth fatigue posso fare un reset un clear dei risultati ottenuti rilanciare la stessa analisi ovviamente non vado a cambiare nulla e ottenere un risultato differente in questo caso per la pth fatigue siamo in campo in campo giallo e vediamo che per quanto riguarda questo aspetto della pcb il fatto di aver cambiato il le caratteristiche strutturali dei dielettrici di elettrici mi ha consentito di abbassare la probabilità di failure cosa succede per la solder fatigue per la solder fatigue vedo che la life prediction è rimasta invariata in realtà devo rilanciare la solder fatigue prima quindi clear analysis results e run analysis task di nuovo vado ad aggiornare quindi la solder fatigue e vedo che la solder fatigue in realtà è peggiorata ancora vediamo quali sono i responsabili in realtà adesso il numero di componenti responsabili di non raggiungere l'obiettivo predefinito sono soltanto due io posso anche andare a vedere quali di questi due siano i componenti come siano posizionati ovviamente sulla scheda vado su layers e quindi preziono solder fatigue vedo che i componenti sono responsabili sono quelli della sulla parte superiore sulla faccia top della mia PCB li posso selezionare entrambi e vedete che sono U1 e U2 e mi vengono evidenziati sulla sullo schema un'eventuale diciamo un'ulteriore improvement in questo tipo di analisi potrebbe essere legato a riconsiderare diciamo in maniera critica quello che è per esempio il carico di esercizio ora il carico di pumping dal punto di vista termico diciamo è definito dall'utente dall'analista sulla base appunto di considerazioni legate ai vari contributi quindi il contributo lato fluido che viene pompato che contribuisce al riscaldamento della scheda così come al calore dissipato dai componenti montati sulla scheda stessa quindi eventualmente diciamo un'analisi più accurata da questo punto di vista potrebbe essere fatta nel momento in cui fossero presenti fossero disponibili per esempio delle delle analisi delle immagini scattate con una termocamera durante il funzionamento della scheda stessa vediamo un esempio di questo tipo quindi andiamo su add files andiamo su thermal maps no scusate add files e prendiamo thermal image per esempio una scheda di questo tipo qui una scusate un'immagine di questo tipo che è stata ottenuta con una termocamera io qui ho a disposizione posso vedere quali sono appunto i limiti inferiori e superiori di riscaldamento e posso utilizzare questa immagine per ridefinire in maniera più affidabile il carico termico durante il ciclo di pumping quindi quindi il specifico che si tratta di una thermal map la minima temperatura sono 30 gradi la massima temperatura sono 47 e voglio che questa immagine venga utilizzata come valore massimo nella fase di pumping a questo punto posso diciamo procedere al mapping e quindi essenzialmente dovrò ritagliare i bordi dell'immagine rispetto alla scheda quindi rispetto rispetto a questo punto ora devo allineare la leggenda ok a questo punto posso vedete si è di nuovo resettata il valore di pth fatigue e solder fatigue perché essenzialmente è stato aggiornato il carico il carico di pumping quindi di nuovo run analysis task pumping tc save and run e anche per quanto riguarda la solder fatigue andiamo a vedere l'effetto di questo sicuramente è stato benefico per uno dei componenti diciamo rimane sempre il componente u2 che è critico però dal punto di vista della life prediction vediamo che ci stiamo avvicinando all'obiettivo ora il vi faccio vedere velocemente il noi possiamo esportare il il modello dalla 2021 r1 e sherlock è totalmente integrato nella work nell'ansys workman suite quindi essenzialmente come per esempio per l'ansys composite pre post noi abbiamo una fase di pre e una fase di post disponibili in workbench direttamente l'interfaccia workbench per motivi di tempo non riesco a farvi vedere diciamo passo passo quello 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 che si diciamo come si si imposta il progetto però essenzialmente carichiamo carichiamo un blocco sherlock pre e poi andiamo a fare il browsing e andiamo a selezionare il progetto che stavamo vedendo nell'interfaccia di sherlock stessa a questo punto noi possiamo collegare un'analisi modale ma diciamo il fatto di avere questa facilità di esportazione e di importazione del modello da sherlock in workbench ci permette per esempio di andare a fare un assembly quindi andare a importare un il case di questa scheda e quindi magari fare un'analisi strutturale tenendo conto della presenza del case quindi anziché avere il anziché avere la PCB che è vincolata nello spazio tramite i punti di mount noi la vincoliamo sul case e quindi teniamo conto nei risultati anche della rigidezza del case stesso per esempio il questo è il case diciamo che ho che ho importato nell'assembly e di conseguenza il questo è il il modello completo di case in questo caso senza coperchio quindi rivediamo la nostra la nostra PCB che è montata all'interno del case e il case diciamo attraverso dei contatti nei punti in corrispondenza dei punti di mount e invece poi il case a sua volta è vincolato sarebbe vincolato al corpo pompa scusatemi in questo caso diciamo ho inserito un fixed support noi quindi possiamo fare analisi per esempio io ho fatto una termostrutturale ho dato una condizione termica un scaldamento termico uniforme di 100 gradi rispetto quindi un salto di 78 gradi rispetto alla temperatura ambiente di 22 ottenendo per esempio questo risultato in termini di deformazione concludiamo questa demo vedendo ancora alcune slide quindi il diciamo appunto la vediamo quali sono le nuove feature in in Sherlock diciamo nella 2021 R1 quindi è stato integrato nel in Ansys Workbench come abbiamo visto adesso inoltre c'è un nuovo motore di meshing che permette di essenzialmente di riuscire a a fare delle mesh più più strutturate anche mappate della della PCB e diciamo ecco un particolare riferimento a questa figura vediamo come nella nella versione precedente la PCB per esempio si potesse mesciare con elementi tetraedrici ora con il nuovo mesciatore possiamo utilizzare anche elementi esaedrici questa demo termina così io spero abbiate trovato interessante quello quello che vi ho mostrato e rimango a disposizione per eventuali approfondimenti e anche per eventuali demo focalizzate su obiettivi specifici di analisi di PCB e grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti